La potatura della melanzana è tecnica che alcuni neanche conoscono, altri la considerano diciamo non prettamente necessaria, ma vi assicuro che se seguite la tecnica della potatura della melanzana, che si tratta proprio di andare a eliminare diciamo le femminelle come sui pomodori e andare a fare delle operazioni particolari sulla pianta, mentre che cresce avrete quelle melanzane belle grandi e polpute come quelle che vedete al supermercato. Iniziamo subito, innanzitutto la melanzana quando è una spanna dal terreno, circa un palmo quindi, emette generalmente una biforcazione, emette una biforcazione subito sopra al primo fiore che emette, quindi che fa la melanzana? Si fa una bella foglia, sopra la foglia mette un fiore, subito sopra il fiore fa una biforcazione, questo è modo di crescere della melanzana. Se voi nella vostra melanzana mentre che cresce non emette quella biforcazione perché magari sta andando a frutto tardi, si può eseguire la scimatura della melanzana in modo che obblighiamo a noi a fare una biforcazione sulle germogli dell'ascella, come si fa? Vediamola in una pianta più avanti. Eccoci qui alla pianta che sta crescendo in modo con ramo unico ad alberello, ora questa ancora piccolina, facciamo finta che questa pianta sopra ad una spanna ancora non fa nessuna diravazione. Prendiamo per esempio questa qui, ok? Questa vedete sopra ad una spanna, ha iniziato a fare il fiore e fa la biforcazione, ma ammettiamo che lei non aveva fatto nulla, che stava proprio in questa situazione qui, quindi cresceva su con un fusto unico. Quando cresce con un fusto unico e inizia ad essere più alto questo fusto di 20 centimetri, sono io che vado a fargli fare un ramo doppio, una biforcazione, perché chiaramente sopra 25 centimetri posso andare a fare la biforcazione della milanzana, perché con due rami riesco a farla produrre di più. Allora che faccio praticamente io? Nel mio ramo vado a prendere la gemma picale e faccio proprio una spuntatura, adesso io non la spunto, era solo per farvi vedere l'esempio. Prendo questa, la elimino in questo modo qua, la strappo o la taglio con un paio di forbici affilate o con un coltello e a questo punto la pianta emetterà subito dalla scella, eccolo qua, del germoglietto un ramo e sulla foglia sotto avrà messo quest'altro ramo, quindi gli facevo fare io la biforcazione con l'eliminazione della gemma apicale, ok? Quindi ripetiamo, la prima operazione da fare come potatura sulla milanzana e quando è alta circa 25 centimetri, se non ha fatto la biforcazione, tolgo la gemma apicale, sono io che induco la biforcazione, la biforcazione la faccio per fare un aumento di produzione sulla pianta. La seconda operazione da effettuare sulla pianta della milanzana è la sfemminellatura, come avviene anche nei pomodori. Una volta quindi che io ho fatto biforcare la mia pianta di melanzana ed inizia a crescere con i suoi due rami verticali, normalmente metterà sulle ascelle delle foglie dei germogli, quei germogli io li devo andare ad eliminare, qui li ho eliminati, perché si vanno a eliminare? Perché sono dei germogli che comunque assorbono energie ai miei due rami principali, che invece sono quelli più vigorosi dove avrò dei fiori meglio nutriti e il sole li colpirà meglio e quindi daranno dei frutti migliori e invece questi ascellari in basso verranno comunque dei germogli molto più piccoli e fioriscono senza problemi, ma la melanzana sarà molto più piccola, è coperta dall'ombra, è facile che non maturi bene, è facile che venga attaccata dalle malattie fungine, quindi la sfemminellatura della melanzana vediamo come si fa, come per il pomodoro, qui diciamo ancora sono piccole la biforcazione appena avvenuta, ma è proprio una tecnica di andare ad eliminare questa parte del germoglio sopra all'ascella, a partire proprio dalla base della pianta quindi sopra al terreno fino alla biforcazione, tutte le femminelle che io trovo che sono appunto questi germogli ascellari li vado sempre ad eliminare, perché li elimino una volta ma poi riusciranno come la pianta del pomodoro, è sempre una solenacea e quindi così si comporta, ve lo faccio vedere in questa pianta qua, purtroppo difficilmente vengono via con le mani, quindi vi dovrete munire o di forbici o di un coltello, se voi le tirate con le mani si strappa sempre, eccola qua, vicino all'ascella ma non viene mai via totalmente per bene, io adesso poi ho un paio di forbici non ben affilate, come vedete questo è il lavoro da effettuare, ecco qua elimino continuamente queste femminelle, perché poi queste femminelle se io le faccio crescere e ci si appende un frutto sono sempre deboli, esili e con il peso poi si rompono, si spezzano e a volte succede che va proprio a togliermi la corteccia esterna del mio fusto principale e lì possono essere patogeni che iniziano ad entrare nella parte delle fuste e quindi malattie. Dopo chiaramente la sfemminellatura, facciamo anche questa, la dovevo fare, eccola qua, dopo la sfemminellatura un'altra cosa importante sulle melanzane è andare ad eliminare, se eventualmente ci sono, quelle foglie che toccano il terreno, quelle foglie che sono troppo basse con l'umidità possono andare a raccogliere quei funghi patogeni sul terreno, quindi tutte quelle foglie che toccano il terreno io le vado ad eliminare, tanto sono uno massimo due e quindi ecco lascio così ben pulito il mio fusto principale fino all'altezza della biforcazione. Terza operazione di potatura sulla melanzana, si vanno ad eliminare i cosiddetti fiori figliastri, in gergo non li chiamiamo adesso effettivamente come si chiamano, non lo so cos'è il fiore figliastro, è un fiore più piccolino che la pianta madre nutrirà sempre in modo peggiore, spesso poi questi fiori neanche riescono ad allegare e spesso si seccano durante la loro crescita, comunque vanno a dar fastidio come elementi nutritivi al fiore principale, ecco perché li chiamiamo i figliastri, la madre sta alimentando uno e all'altro proprio se ne frega come si dice, e allora noi andiamo proprio ad eliminarlo sempre con un paio di forbici in questo modo, in questo modo che faccio, lascio un solo fiore che sarà quello ben nutrito, che sarà quello dove la melanzana viene bella grande, perché lasciare un fiore figliastro se riesce ad allegare la melanzana sarà sempre piccola e comunque anche a volte amara, cioè viene malnutrita e quindi non viene neanche quella melanzana così ben vigorosa come è invece nel figlio madre, quindi si vanno ad eliminare questi fiori figliastri, in questo modo qua, quindi questa è la terza operazione da fare sulle piante della melanzana. Ultima potatura sulla pianta della melanzana, ormai abbiamo capito, ad altezza di una spanna si fa eventualmente la cimatura se non ha fatto la biforcazione, quando la melanzana inizia a crescere di più si tolgono tutte le femminelle, si vanno ad eliminare anche le foglie che toccano il terreno e poi si vanno ad eliminare i fiori figliastri, cioè quei fiori piccolini. Ora la melanzana nel suo modo di crescere, lo vediamo proprio qua, sopra ad ogni ascella fogliare emette un fiore e fa la biforcazione, vediamola qua, ha fatto la biforcazione, ha emesso un fiore sopra alla foglia e inizia la sua biforcazione. Ora che succede? Che se noi lasciamo crescere in questo sistema qui, la melanzana, sappiamo che ad ogni 15 centimetri fa una biforcazione, una biforcazione quindi i rami si moltiplicano per natura nella pianta della melanzana, che succede? Che quando è alta 60 centimetri è una foresta di foglie e anche di fiori chiaramente e di melanzane, ma le melanzane iniziano a diventare sempre più piccole. È naturale ragazzi, se l'apparato radicale è quello, scusatemi, e le sostanze nutritive da dare ai nostri frutti sono di più, le melanzane sono sempre più piccoline, è la stessa cosa che se abbiamo un piatto di minestra e ci vogliamo mangiare in 10, ben poco ce ne tocca a tutti quanti, meglio magari dimagriamo pure un po'. Allora, che facciamo invece noi? Ogni volta che ci accorgiamo che la nostra melanzana, come in questo caso qua, ha fatto una fiore ed una biforcazione, noi andremo a togliere subito la parte del germoglio più debole, più esile, lo spuntiamo e lasciamo far crescere invece il germoglio, quello più grande, più dritto, più forte. In questo modo qua, che succede? Qui avrò innanzitutto una bella melanzana, perché non saranno due rami da nutrire, ma sarà solamente uno, qui l'ho eliminato. Questo sta crescendo, farà un altro fiore e farà la biforcazione, io vado a eliminare della biforcazione la gemma, quella più debole, lascio quella più grande, quindi avrò una pianta che cresce con questi due rami belli, forti e robusti, non avrà tantissimi fiori e quindi tantissime melanzane, ma quelle 6, 8, 10 melanzane che riesce a portare avanti nel tempo con una raccolta scalare, quindi avrò sempre quelle 5 o 6 melanzane sulla pianta, saranno sempre belle, grandi e ben nutrite, dolci e poco semose. Poi chiaramente questi due rami, man mano che crescono, metterò dei tutori, dei fidi, andrò a legare la pianta in modo che con i forti venti non mi si spezza l'intero, l'intera pianta. Che altro dire? e per me, ragazzi miei, la potatura della melanzana è finita qui, questi sono i concetti principali, applicateli, vedrete che vi troverete veramente bene. Per adesso è tutto, vi saluto, ci vediamo alla prossima, lascio sempre gli ultimi 6 secondi, sapete benissimo che ci sono altri link interessanti, e un abbraccio a tutti, ci vediamo, ciao ragazzi!